Il riordino della rete ospedaliere in consiglio regionale oggi in anteprima oltre 600 amendamenti delle opposizioni che cadranno con una legge blindata. La manovra regionale vera e propria approdere in aula il prossimo 27 dicembre, oggi un anteprima. La maggioranza ci tiene particolarmente perché del resto i progetti dei singoli ospedali sono legati alle leggi di riordino e rivendica il risultato perché l'approvazione della rete ospedaliere è un risultato storico. Questa rete ospedaliera si integra anche con la rete territoriale che abbiamo già approvato dà la possibilità di essere curati attraverso gli ospedali hub di alta complessità che vedono le reti tempo dipendenti per quanto riguarda i politrauma, gli stroke e per quanto riguarda problemi gravi cardiologici e soprattutto diamo vitalità, identità evitando i doppioni ai cosiddetti piccoli ospedali, quegli ospedali SPOC che nelle precedenti delibere erano state completamente cancellate. Un testo che è completo perché prevede un numero di posti letto molto maggiore, 500 in più, un numero di WOC e WOSD in 80 in più, prevede una rete di assistenza emergenza completa su tutto il territorio, non abbiamo chiuso i tanti ospedali che prima erano stati chiusi quindi mi sembra che sia una rete ospedaliere molto completa. Ovviamente di tutt'altro avviso sono le opposizioni che hanno presentato tanti emendamenti per modificare la mappa degli ospedali ma che non sono d'accordo neanche sulle strategie, parlano di taglioli e di un pezzo di carta che non sarà attuato. La sanità pubblica cade nella rete del centro-destra, una manovra tardiva, una manovra che non serve assolutamente a nulla ma anzi ci preoccupa perché le dichiarazioni del console romano Marsiglio e del presidente Sospiri sono state chiare. Si parla di soldi, di liberare risorse, di liberare risorse per l'edilizia e questo è un dramma nel momento in cui si approva un documento che non ascolta i portatori di interesse, che non ascolta le esigenze degli abruzzesi e che molto probabilmente centralizza i servizi peggiorando la condizione attuale della sanità pubblica a livello regionale. Cinque anni di governo regionale, zero provvedimenti della programmazione approvati con fuga dei pazienti, liste d'attese infinite, sotto voto, appena sette settimane dal voto portano una rete per farci campagna elettorale ma che lascia tutto sospeso. Chi vincerà le elezioni, e mi auguro saremo noi, dovrà ricominciare da capo perché cinque anni di inerzia conducono a dover riscrivere una intera rete ospedaliera.